cosa costa un abbraccio nulla per tutte le stagioni della vita nella giornata nazionale della consulenza familiare dove il professionista socio educativo aiuta non solo le coppie ma garantisce il benessere della persona l'iniziativa al porto turistico marina di pescara cinzia triggiani dell'aicef ricorre la giornata nazionale della consulenza familiare voi siete qui al porto turistico marina di pescara perché allora noi siamo qui per festeggiare la quarta giornata nazionale dei consulenti familiari della consulenza familiare aicef e questo evento è stato permesso grazie alla sponsorizzazione da parte del consultorio ucp di pescara e del porto turistico marina è una giornata nella quale diciamo immersiva nella quale noi consulenti ci diciamo così spendiamo per entrare in contatto con le persone e far fare loro l'esperienza di un momento di benessere e di far fare loro l'esperienza di che cos'è avere contatto con il consulente familiare con una figura socio educativa che si occupa di prevenzione si occupa di benessere si occupa soprattutto di educazione quindi educazione anche alla richiesta d'aiuto sfatando un po' tutte le paure che in qualche modo la legano perché non è detto che le cose dobbiamo sempre risolverle da soli o rimanere impantanati ma la consulenza familiare permette di attivare le risorse su un piano di reciprocità attraverso proprio l'ascolto attivo attraverso degli strumenti che sono specifici per l'accoglienza del disagio ma anche della vita quotidiana e qui le stagioni della vita le abbiamo prese come tema proprio per dire che il ciclo della vita ha delle fasi che sono biologiche poi sfociano come dice palmonari nella cultura e quindi vanno attualizzate